Raffreddare una CPU, specie quelle più potenti sul mercato, non è facile e richiede un dissipatore all'altezza. Il ROG Ryujin 3 360 a RGB può essere la risposta giusta. Si tratta del dissipatore a liquido I.O. di punta di Asus ROG, un prodotto innovativo che non teme nemmeno un processore potente come il Cori 9 14900K di Intel. Tra l'altro il prodotto è al centro di una promozione che consente di risparmiare 50 euro nell'acquisto in abbinamento a una motherboard. Prima di parlarvi della promozione diamo un'occhiata al ROG Ryujin 3 360 a RGB. Non si tratta di un dissipatore a liquido comune, ha diverse caratteristiche peculiari pensate per spingere le prestazioni di raffreddamento al massimo, senza dimenticare anche la ricerca di un look che ben si abbina alle build moderne. La base del waterblock in rame e una pompa Asetec di ottava generazione sono i protagonisti del raffreddamento della CPU, insieme ai 40 cm di tubi che collegano la pompa a radiatori in alluminio. Sul radiatore trovano posto tre ventole RGB da 120 mm collegate tra loro in modo magnetico. Su ogni ventola è presente un sistema di contatto che serve a far funzionare le ventole in cascata alla stessa velocità, condividendo gli effetti di illuminazione RGB. Questo permette di non avere tantissimi cavi da gestire ma di collegarne solo due, quello per la RGB e quello da inserire nel connettore CPU fan della motherboard. Le ventole sono pensate per dissipare il calore in modo efficiente senza però diventare troppo rumorose, anche sotto carico. L'altro elemento importante di questo dissipatore è sulla testata del waterblock ed è una ventola integrata che serve per raffreddare il VRM e l'area del socket, una parte fondamentale per l'alimentazione della CPU. L'altro elemento è una copertura magnetica che si appone sopra la ventola e che vede incastonato un display LCD da 3,5 pollici, ulteriormente migliorato rispetto al precedente ROG Ryujin 2. Si tratta di uno schermo a 24 bit che supporta un framerate di 60 fps e ha 32 MB di memoria per archiviare GIF e non solo. Questo schermo può essere personalizzato tramite il software Armory Crate. Potete mantenere il logo ASUS ROG con diversi effetti, impostare un'immagine anche animata e personalizzata o visualizzare informazioni su uno o più parametri della CPU. Il dissipatore può essere installato su tutte le piattaforme moderne ed è coperto da sei anni di garanzia. Abbiamo provato ROG Ryujin 3 360 RGB installandolo su una scheda Marley ROG Maximux Z790 Dark Hero con il migliore dei core di quattordicesima generazione, il Core i9 14900K, un potente processore con 24 core e 32 fred, capace di toccare la frequenza di punta di 6 GHz con carichi leggeri. Il dissipatore di ASUS e il Core i9 sono stati messi alla prova con due test, uno pesante come Cinebench 2024 e un altro gaming, ovvero Metro Exodus, per verificare che il processore operi al meglio in condizioni diverse. Sia da un punto di vista della frequenza di clock che delle temperature, il Core i9 14900K ha operato al massimo in ambedue gli scenari. Da rilevare come ROG Ryujin 3 360 RGB di ASUS riesca a mantenere il processore in prossimità dei 75-80 gradi nel carico pesante di Cinebench 2024, mentre in gaming non superi i valori tra 55 e 65 gradi. Il nuovo dissipatore di ASUS ha quindi superato la prova a pieni voti. Questo è anche il risultato della ventola sopra la testata della pompa che permette di dissipare un po' di calore dall'area del VRM. Come emerso dai test, il ROG Ryujin 3 360 RGB è in grado di gestire anche le CPU più esigenti, che necessitano però anche di una motherboard con un VRM e caratteristiche adeguate. Il dissipatore di casa ASUS è particolarmente indicato in abbinamento alle motherboard ROG Maximus Z790, il vertice dell'offerta di ASUS. Oltre al modello Dark Hero, su cui abbiamo svolti i test, soluzioni come la Z790 Formula, la Xtreme o la Apex in Core permettono di comporre build e avere prestazioni molto elevate. Il dissipatore e queste schede maggi sono perfette per i processori Core i9 14900K, il Core i7 14700K, ma anche la precedente generazione Core i9 13900K e 13700K, perfettamente compatibile. Le motherboard ASUS ROG Maximus Z790 hanno un VRM con componenti di qualità e molte fasi di alimentazione. Una particolare cura sul fronte della dissipazione e una completezza dal punto di vista delle caratteristiche e delle funzionalità rara, il tutto impreziosito da elementi di pregio che rendono un PC gaming anche bello da vedersi. Il ROG Ryujin 3 è anche disponibile nella versione White Edition per configurazioni bianche, senza ventole a RGB e persino nel modello con radiatori da 240 mm. Quest'ultimo lo vediamo particolarmente indicato per processori come il Core i5 14600K, un modello di Intel bilanciato ideale per il gaming, insieme a una scheda madre della gamma ROG Strix. Qualunque sia il modello di Core di 14esima generazione, ASUS ha un ROG Ryujin capace di farlo funzionare al fresco e al massimo delle sue potenzialità. Il nuovo ROG Ryujin 3 e gli altri modelli sono al centro di una promozione che fino al 31 dicembre permette di risparmiare 50 euro sull'acquisto combinato di determinate schede madri Z790 e un dissipatore ASUS ROG. Il tutto avviene presso i partner infografalex.it, nextdraco, mrweb, giacca, holostore, pcfrog, pchunter e AK informatica. Dalle schede madri ASUS parte dell'iniziativa troviamo la ROG Maximus Z790 Formula, la 790 Apex & Core, il modello Dark Hero, la Strix 790E Gaming Wi-Fi 2, la Strix 790F Gaming Wi-Fi 2 e infine la 790A Gaming Wi-Fi 2. A queste potete abbinare un dissipatore ROG Ryujin 3 e le sue varie varianti oppure un dissipatore Ryu 3 e anche in questo caso le diverse varianti disponibili. Se state pensando di rifarvi il pc puntando su una scheda madre ASUS ROG Z790 e un dissipatore Ryujin 3 e non solo potrete risparmiare quindi 50 euro ma avrete così un sistema potente e moderno con grandi capacità di worklock e bello anche a vedersi.